Allora, questa è l'entrata del bunker, qui c'è l'entrata, volete andare su, vai su, faccio un po', ora va. La 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 con il fatto vedele dentro? Faccio! Come la, potete sparare! a me piace questo posto piace? si è è buono come era una volta una volta era così guardavi e basta aspettavi che i tedeschi arrivassero dove è Sara? non vieni giù non vieni giù ha paura lei vuoi andare lì? davvero? questo che è un bunker cosa ha questo tutto? si questo tutto? cos'è la? wow quella guarda qui c'è un'altra stanzetta magari dove lasciavano mettevano bombe queste cose no vedi? qua c'è un'altra stanzetta qua c'è un bunker non c'è niente e qua è dove facevano la pipì serio? sono serio guarda c'è anche la porta ancora guarda qua c'è la uscita guarda là è dove facevano la pipì io non voglio entrare là vedi? qua c'è un'altra stanza no? un'altra stanza qua e tu ho fatto la possetta ho fatto la possetta vedi? suonare cosi? suonare sono cose che sono cadute qua andiamo via Sì, ti piaccio, tu vede lì in banca? Sì. Atenta a testa, se non senza casca, bisogna stare atenta a testa. Vai subito. Vai subito. Vai, Biodon. Sì. Vai. Mi sento la seconda guerra, rinascendo. Mi fai una foto che si vede tutto dietro? Sì. Ok. Giù dietro tutto dietro. Mi sento la seconda guerra. Sì. Sì. No, no!